In questo sit-in oggi al destaccamento di Cividale è una situazione che si prolunga già da un anno circa. Noi comunque sia sui media regionali e sulla stampa abbiamo sempre denunciato questa chiusura singhiozzo del destaccamento permanente di Cividale. Il 16 settembre di quest'anno abbiamo dichiarato lo stato di agitazione e poi il 27 settembre siamo andati al tavolo di riaffreddamento in prefettura con il prefetto e il nostro dirigente, il nostro comandante. Dopo una lunga trattativa non vedendo che ci sono delle risposte concrete su quel tavolo lì il 27 settembre non abbiamo conciliato e quindi siamo passati alla parte che è quella dopo che è lo sciopero. Quindi oggi abbiamo dichiarato questo sit-in, questo sciopero che si terrà qui a Cividale dalle 9.30 a mezzogiorno e poi nel pomeriggio ci sarà un ulteriore sciopero del personale operativo che non può essere presente oggi qui dalle ore 16 alle ore 20 per un sciopero di 4 ore. Grazie 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 Grazie.